Quad sulle dune di Ortona, divelte recensioni poste dei volontari per tutelare rare piante, un nido di fratino con uova schiacciate nonostante la rete di protezione. Il gruppo dune bene comune lancia un appello a forza dell'ordine e comune chiedendo dopo gli episodi segnalati la massima sorveglianza su uno degli ultimi tratti di vegetazione dunale rimasti in Abruzzo. In particolare l'aria aveva suscitato polemiche anche per possibili nuove concessioni balneari. Vincenzo Petrezelli della Dune bene comune e tra l'altro anche coordinatore di zona per quel che riguarda il progetto Salva Fratino. Sì, domenica ci siamo accorti che un quad verso il tramonto ha cominciato a correre lungo la battigia più volte e poi chiaramente ha abbandonato la zona. Poi il giorno successivo, ieri, facendo la solita passeggiata di perlustrazione dei vari nidi che ci sono lungo questo tratto di spiaggia bellissimo e naturale, ci siamo accorti che praticamente questo quad era salito sulle dune e ha rischiato di schiacciare altri nidi che sono praticamente nella zona a sud della stazione di Tollo. Ieri pare ci sia stato un episodio analogo segnalato da alcuni bagnanti alla Capitaneria. Perché le persone che frequentano questa spiaggia ormai si sono sensibilizzate alle problematiche che si possono venire a creare, hanno subito segnalato e prontamente la Capitaneria ha mandato una pattuglia. Volevo ricordare anche il fatto che qui c'è un nido, che penso che avete inquadrato, che purtroppo è stato vandalizzato. Non siamo sicuri se al 100% è un intervento umano. E diciamo che la spiaggia di Ortona ha una peculiarità tutta sua. Partendo a nord del suo territorio con questa spiaggia splendida, con un habitat molto particolare, sia dal punto vegetativo che dal punto animale, con la presenza del fratino, con la presenza dei gigli di mare, del verbasco, piante rarissime, protette, per poi scendere verso il Lidoriccio, dove chi vuole divertirsi e vuole usufruire di tutte le comodità degli stabilimenti balneari può trovare assolutamente ciò che desidera. Passiamo poi ai ripari di Giobbe con le sue falesie splendide. Scendiamo giù poi a Ortona, il suo bellissimo castello e le sue spiagge con il porto, per poi arrivare alla Perla, che è l'acqua bella. Grazie.